Chi vota no, non può abbracciare tutto il piatto con l'upello. Allora, grazie per la Carolina. Primero il sistema di votazione. Chi vota no, boccia il capo. Chi vota sì, approva il capo. Diciamo che così non lo facciamo a essere. Capo, campi per la rinnovazione per la rinnovazione mobilale della pica da pelaggio di pensione con il 10% di tutti. Provo, scredata. Si. Polizia Fortunata. No, Nanna, Sergio. Si. Polcera, Giugata. Scandanie, D'Otulcan. Il segretario si va con un'interazione. è un'implicazione che mettiamo a fine quando sono tutti provati sul bilancio anche la proposta di un'impegno la proposta di un'impegno della giunta e dell'impegno e non è vero, questo giardino è vero no, no, assolutamente siccome il campo di città è il bilancio no, assolutamente allora se non c'è un'impegno consigliere c'è un'impegno io mi sono contato a segre prima di politizzare allora, l'impegno è meglio dal campo 4 va sul campo 4 perciò non c'è quando andiamo a votare il bilancio perché così è il papassi non ci stiamo comprendendo questa è un'impegno questa è un'impegno questa è un'impegno questa è un'impegno ma io per dire il bilancio se non c'è un'impegno tu hai il tuo bilancio sul bilancio perché c'era un'impegno di difficoltà questo consiglio dal dibattito finale a questo momento per cui il suo elettore va votato sul campo 4 cioè sul bilancio perché era sul bilancio che avevano i suoi personaggi che avevano i suoi personaggi veramente sul bilancio delle società partecipare e poi però è un'impegno di sicurezza e poi mi lancio stesso e sai come è tenuto questa parte? veramente avete la capacità di tirare di soldi nel che è un'impegno perché volevo dare non uscire ma mi stai dicendo allora mi stai votando perché mi sono trovato con i ragioni allora ci andiamo a dire Sì Russoano Russoano Si Montepranzo Si Metto Antovi Si Salda Signora Si Disposta Francesco Si Paolo dei Paranzi Si Melenato Si Non sono Non ce ne 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 sono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.